I bambini che si riprendono gli spazi, la piazza, tutto chiuso al traffico, i bambini che sono titolari, proprietari del territorio, del nostro territorio. Credo che sia uno dei messaggi più belli che noi possiamo lanciare in occasione del trentennale. Tra l'altro di questi bambini nessuno era presente in quel periodo della strage, ma tra questi bambini sicuramente nasceranno i futuri poliziotti, magistrati, uomini dell'ordine. Ed è a loro che noi dobbiamo fare sempre di più riferimento. Oggi è una giornata molto importante per il Vole S3 in Sicilia e per la Federazione Italiana Pallavolo. Ci tenevamo come Consiglio federale che si riniziasse questa avventura del Vole S3 delle piazze e dalla Sicilia e in particolar modo da Capaci perché oggi, il 23 maggio, ricorre purtroppo quello che è il centennale della strage di Capaci. La presenza delle scuole, nonché delle società, delle città di Palermo e la ampia presenza di persone fa sì che la scelta è stata azzeccata, è stata una scelta importante e noi siamo felici di questo.